dalla lettera di san paolo apostolo ai filippesi fratelli se c'è qualche consolazione in cristo se c'è qualche conforto frutto della carità se c'è qualche comunione di spirito se ci sono sentimenti di amore di compassione rendete piana la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità rimanendo unanimi e concordi non fate nulla per rivalità o vanagloria ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso ciascuno non cerchi l'interesse proprio ma anche quello degli altri dal vangelo secondo luca in quel tempo gesù disse poi al capo dei farisei che l'aveva invitato quando offri un pranzo una cena non invitare i tuoi amici nei tuoi fratelli nei tuoi parenti nei ricchi vicini perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio al contrario quando offri un banchetto invita poveri storpi zoppi ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti quando offri un banchetto invita poveri storpi zoppi e ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti si tratta di scegliere la gratuità invece del calcolo opportunistico chi cerca di ottenere una ricompensa che cerca l'interesse e chi cerca arricchirsi di più infatti i poveri i semplici quelli che non contano non potranno mai ricambiare un invito a mensa così Gesù dimostra la sua preferenza per i poveri e gli esclusi che sono i privilegiati del regno di dio e lanza il messaggio fondamentale del vangelo che servire il prossimo per amore di dio oggi Gesù si fa voce di che non ha voce rivolge a ciascuno di noi un accorato appello ad aprire il cuore e fare nostre le sofferenze e le ansie dei poveri degli affamati degli emarginati dei profughi degli sconfitti della vita di quanti sono scartati dalla società e dalla prepotenza dei più forti e questi scartati rappresentano in realtà la stragrande maggioranza della popolazione in questo momento penso con gratitudine alle mense dove tanti volontari offrono il loro servizio dando da mangiare a persone sole disagiate senza lavoro o senza fissa dimora queste mense e altre opere di misericordia come visitare gli ammalati carcerati sono palestre di carità che diffondono la cultura della gratuità perché quanti vi operano sono mossi dell'amore di dio e illuminati dalla sapienza del vangelo così il servizio ai fratelli diventa testimonianza d'amore che rende credibile e visibili l'amore di cristo a un 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 un